Ritorno al successo per la Viola che vince il derby di Calabria e festeggia la qualificazione matematica con due giornate d'anticipo alla Play-In Gold. Reggio Calabria dunque affronterà le prime quattro squadre del girone parallelo, Molfette ed Angri già qualificate matematicamente. Rende invece, all'interno di una sfida dai macri contenuti di classifica, esce ugualmente a testa alta dal Pala 4 miglia. Un bel derby, combattuto e competitivo tra le massime realtà del basket calabrese. La cronaca. Il primo canestro è una tripla di Mateja-Maximovic. Festinese pareggia immediatamente i conti, sempre dalla lunga. Il primo quarto è molto equilibrato. Il vantaggio dei locali arriva fino al più 9, ma Reggio rimonte e chiude sotto di 2 il primo quarto, 24 a 22. Nel secondo periodo continua l'equilibrio. Maximovic impatta sul 28 pari. Il team di Coach Carbone vola ancora sul più 7, 43 a 38, e la fine del secondo quarto. Nel terzo quarto la musica cambia. Le triple di Binelli spezzano il break. La My Energy vola più volte sul più 9 e conquista la doppia cifra di vantaggio per la prima volta con due punti di Tirtischnik, 51 a 59, al termine del periodo. I ragazzi di Coach Cigarini sono bravi nel quarto e decisivo periodo nel tenere botte e resistere alla voglia di rimonta avversaria. Rende tenta l'ultima, rimonta fermandosi però sul meno 7. La gara termina 72 a 79 per la My Energy. Molto bene Maximovic e Simonetti in casa nero-arancio. Determinante capitano Binelli in doppia con Mavric, Aguzzoli e il top scorer Tirtischnik. Rende chiude in doppia con il top scorer del match, Malkic, autore di 24 punti. Guzzo, Markovic ed un buon Festinese. La Viola torna in campo domenica prossima al Palacalafiore di Reggio Calabria per affrontare la squadra del momento, la Basket School Messina.